Buonasera, buonasera, buona domenica notte, domenica sera. La giornata calcistica è terminata, la Roma ha vinto come si poteva immaginare, non senza difficoltà durante il primo tempo, con un buon benevento, ma quello ci stava e quindi noi non potevamo continuare a pensare che i nostri avversari si facessero dei karakiri, degli autogol ogni volta e quindi era necessario vincere. Quindi è così, è stato in qualche modo oggi contro il Bologna, ma in qualche modo, in qualche modo. Innanzitutto debbo dei ringraziamenti a questi tanti iscritti che in pochi momenti ci sono stati a questo mio canale di cronaca e di sport messi insieme. Ovviamente so benissimo che l'input è stato dato da mio figlio Castellano Gianluca, l'interista napoletano che vi ha invitato a mettere l'iscrizione perché dovevamo arrivare a 200 e così come in pratica siamo arrivati. Lo ringrazio perché mio figlio ha preso da me questa passione, questa passione per l'Inter che in queste zone non è scontato ovviamente perché stando vicino a Napoli non è che si nasce i tifusi dell'Inter. E quindi egli è molto bravo, beh non devo scoprirlo, certamente io so che lo seguite con tanto affetto e con tanto entusiasmo. Quindi vi ringrazio per lui, ringrazio lui e ringrazio tutti quanti voi. Detto ciò io già un paio di giorni fa postai il video anticipatorio Inter Bologna e dicevo guardate questa è una partita tosta perché Spalletti non ha cuore, non ha coraggio, non ha gli attributi, sarà una partita che chissà chissà, io pensavo pure che giocassi i cardi poi non ha giocato e va bene. Ma è stato propriamente così. Io purtroppo Spalletti c'è qualcosa che non mi convince nelle scelte, troppo filosofico, dice sempre e poi sapete che il gioco che bisogna migliorare, che poi quando il terzino scende che noi abbiamo la supremazia, che poi questo che poi, che poi, che poi, che poi cosa, che poi cosa. Oggi è stata la nona partita, rischiava di essere la nona partita senza vittoria e tu mi presenti di nuovo un Inter che, bene o male, è identica. L'esigenza delle due punte non è un'esigenza numerica, ma è un'esigenza di impostazione. E quindi poi ci è andata bene, io non voglio fare la cronaca come fanno tutti della partita perché ormai l'avete vista tutti e la riflessione è che le castagne dal fuoco vengono tolte da chi ha il cuore, da chi ha lo spunto, da chi ha la tecnica. Oggi è stato un ragazzino, quel caramù, che a un certo punto ha avuto la forza, l'inventiva di andare alla ricerca del gol. E la differenza la fanno i singoli, la fanno l'attaccamento alla maglia, pure questo Rafinha, ma che bel giocatore, ma che cosa, ma che facciamo? Facciamo il minutaggio dieci minuti alla volta di più? Ormai Rafinha deve essere schierato dal primo minuto che poi alla fine magari lo vuoi togliere dieci minuti prima, la puoi anche togliere. Insomma, insomma, qua bisogna darsi una mossa, caro Spalletti, non puoi vivere di rendita, tu sei il comandante di questa nave che c'ha le falle. E quindi, e quindi, e quindi, vediamo un po', vediamo un po' cosa si deve fare oggi, un'altra partita soffertissima. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Certamente bisogna mettere fuori squadra a quel Prokovic, cioè, è un giocatore mediocre, ma noi l'avevamo schifato già dello scorso anno e poi, ancora quest'anno, quindi c'è anche una fisiognomica che è rivelatrice di una tabbenaggine come uomo e come giocatore. Non deve giocare, è vero, ogni tanto magari ti fa la giocata, ma non è da Inter, non è da Inter. Poi, quell'atteggiamento così provocatorio nei confronti dei tifosi, per carità. Quindi, bocciato anche Borja Valero, insieme a Brozovic, e quindi spazio, spazio a Caramò, a Canselo, a Rafinha. Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, perché poi al di là del modulo, ma ci vuole di buttare il cuore oltre l'ostacolo. E il modulo senz'altro, anche quello, Eder non è che adesso si va a sedere in panchina. Bisogna giocare con le due punte, anche adesso che rientra i caldi, va bene? E poi Perisic, diciamo che ha giocato un po' meglio in una posizione più difensiva. Bisogna ritrovare la serenità difensiva, pure Mirante, quello che ha fatto veramente, non è da lui, da Ceffoni proprio, perché tu, a parte fai la svirgolata, poi ti vai a seguire così affannosamente a Palazio, senza cercare l'intervento, niente. Te lo guardi e ti dici, ah, vediamo questo se riesce a segnare. Ma Mirante è stato proprio osceno, osceno. Quindi si salva oggi l'atteggiamento e quindi qualcosa è cambiato, bisogna cambiare di più. Questo è, questo è, non voglio aggiungere altro. Spero che Genoa Spalletti avrà, avrà il coraggio di proseguire nel rinnovamento. E quindi io ringrazio tutti di questa attenzione che mi state riservando e vi prometto che in settimana abbinerò sia qualche video, diciamo, calcistico, che per gli aggiornamenti dei fatti di cronaca che stanno, stanno anche, anche essi, diciamo, diventando molto interessanti per chi segue il genere. Quindi vi auguro una buona settimana a tutti e ci accingiamo alla settimana di Coppe con la partita della Juve e con anche poi mercoledì un partitone, Real Madrid-PSG. Chissà se noi riusciremo, insomma, abbastanza presto ad incontrare queste grandi squadre, a partecipare a questo palcoscenico che ci compete per storia, per blasone. Grazie di nuovo e buona settimana a tutti. Ciao!